Ehi, ehi, che stai facendo? Scusa, ma perché non vuoi il riassunto? Esatto, Mifon, non vuoi, quello è riassunto! Non lo voglio in questo episodio. No, stare scherzando, vero? Sì, deve essere tutto uno scherzo. Non fare, non fare, non fare, non fare, non fare, non fare, no, no, Mifon, che cosa stai facendo, no, ho un contratto, non puoi fare! Ehi, che stai facendo!